L'Agenzia dell'Entrata comunica che si può fare la domanda per ricevere gli aiuti relativa ai contributi a fondo perduto per i ristoranti, i bar, le piscine e il catering, pronti in modello istruzione per i titolari delle aziende sopra elencate che intendono richiedere i contributi destinati a questi settori in difficoltà. Dal decreto sostegni bis, un provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'Entrata Ernesto Maria Ruffini, detta le regole per presentare la domanda e stabilisce il calendario per l'invio. Da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre le imprese richiedenti devono aver registrato nel 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per compilare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi del sito internet dell'Agenzia dell'Entrata. Per la compilazione è possibile utilizzare il software di mercato che rispettino le tecniche emanate con il provvedimento inviando la domanda tramite canali telematici Entratel Office Online dell'Agenzia dell'Entrata. L'istanza può essere trasmessa a cura del richiedente di un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche nel portale fatture e corrispettivi. Possono richiedere il contributo alle imprese che esercitano attività prevalente, una di quelle individuate dai codici Ateco 2007, i 56 10 ristoranti, 56 30 bar, 93 11 gestione di piscine, 56 21 catering per eventi, organizzazione di feste e cerimonie, che hanno subito nel 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto a quella dell'anno 2019. Per le imprese invece costituite nel corso del 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020. Trascorso il termine per la presentazione delle domande, l'Agenzia delle Entrate suddividerà i finanziamenti disponibili per il contributo stabilito dal Decreto Legge 7321. L'importo del contributo per ciascuna impresa sarà pari al minore tra la somma determinata a seguito della ripartizione e quella residua di aiuti ancora fruibili determinati in base all'ammontare di aiuti in regime de minimis riportato nella domanda. Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario dell'istanza.